Ci sono? Ci sono. Cascine! Ho due giorni di amicinati. Il nostro affascinato di istituzione. Dichiarato, non stai andando. Dovrete salire di due gradini, non si scacere. Un gradino di istituzione. Una volta che lo vedete, dovrete apposciarmi. Dovrete apposciarmi a stare qui, liberati. Se salite su quel peggio... Vedete dove c'è. Ah, qui. Dovrete salire con... Sì, anche pure la storia così. Dovrete salire sotto. Grazie. Vado a parlo. Vado a parlo. Dovrete salire con queste lente di un gradino. Dovrete aiutinati. Grazie. L'unico pure! Vado a parlo. Vado a parlo. Grazie. we go to avoid a c the la il nostro forno! il nostro forno! E' in grado! In grado! E' in grado! Dio, e' in grado! C'è anche quello che èma! Dovremmo occupare anche la ria, la notizia della ossa che possono illustrare.